Al via la sedicesima rassegna Castellive, un appuntamento che si ripete con grande successo. Che cos'è innanzitutto Castellive? E poi parliamo anche del primo appuntamento di questa sera. Certo, allora Castellive è una rassegna estiva che si svolge tutti gli anni, ormai da 16 anni a Castell. Castell è un borgo piccolissimo nel comune di Ricò del Golfo di Spezia e ogni anno noi facciamo questa rassegna e organizziamo anche altri eventi e mostre d'arte per far vivere il borgo che stava scomparendo, poi è stato ristrutturato, diciamo le case sono state ristrutturate e il paese ha ricominciato a vivere grazie proprio a una strategia puntata sugli eventi, sull'arte soprattutto perché facciamo molte mostre d'arte e su questa nostra rassegna alla quale teniamo moltissimo. Ecco, il primo appuntamento questa sera? Abbiamo una serata bellissima, ci sono 24 concertisti provenienti dalle più grandi orchestre italiane che si ritrovano a Castell per il terzo anno consecutivo per commemorare Roberto Mellini che era un musicista molto apprezzato e molto amato di San Benedetto che è scomparso prematuramente qualche anno fa. Voglio ricordare che poi prima e dopo la serata è possibile cenare nel paese. Castell e Codeglia diciamo che sono stati un po' i precursori della ospitalità diffusa. Beh, possiamo dire di più, Castell è stato precursore dell'ospitalità diffusa sul nostro territorio ma probabilmente con un modo diverso di pensare il turismo o anche un po' fuori quello che alcuni dedicò del Golfo. Chissà quante persone non sanno che cosa sia Ricco se non per la rassegna di Castell, ormai sono più di dieci anni, è qualcosa di altissimo profilo, di bello, di accogliente, qualcosa che ha fatto sì che un paese spopolato diventasse vivo, vivo con persone da tutta Italia e non solo. Vorrei ricordare che noi abbiamo ufficiato due settimane fa un matrimonio di una coppia di tedeschi che erano soliti per notare fare le loro vacanze su a Castell. Forse Castell è la prova del fatto che esiste un turismo di alto profilo, di buona qualità, che non è un mordie fuggi, che vuole cose buone, che ascolta musica, che ha piacere di intrattenersi e che non consuma il territorio ma vuole viverlo insieme agli abitanti.